Cia li studiamo sti tedeschi o no? Sì dai! Dai qua c'è il rettilineo del Mugello eh! Ma sta in mezzo questo! Però guarda quello la sta di là eh! Ma non è mica in Inghilterra! Cia go! Se la sente? Se la sente? Non se la sente! Non se la sente! No! Paura! Sperda! Arrivo! Arrivo! Avrò tutto! Full gas! Attenzione! Full gas! Bene racconta ai fans! Se no li aggiorni e loro non sanno cosa stiamo facendo! Allora fans! Guarda quanti mercatini! Comunque praticamente stiamo scendendo dalla parte del Trentino che non ho mai fatto! Siamo qua allo stelbo e abbiamo fatto le foto, abbiamo camminato sulla neve, siamo sprofondati nella neve Amore ma non ci sei più! Eh vai forte! Eh ma devi fare la gara! C'è la gara! Poi devi mettere nel video un po' di... un po' di adrenalina e i fans vogliono la velocità certe volte allora devi andare alla velocità! Attenzione che c'è la gara con Lady KTM! Prepara l'attacco all'esterno! Attenzione! Lo prepara! Lo porta a termine! Staccata! Scala in seconda! Allarga la curva! Prende la trattoria in posta! Piano che non si... Una marmotta! No! Dove? Una marmotta è andata nel buco! C'era una marmotta! Non l'ho mai vista! Eh lo ripassa! Lo ripassa con l'inganno! L'inganno della marmotta! Lo passa! Lo supera! Attenzione! L'asfalto di sconnesso! Il piscio delle mucche! I sassi dello stelvio! Profumo di vittoria! Profumo di vittoria! Ormai si vede la bandiera a scacchi in fondo a rettilineo! Rosiglia! E niente! L'ho lasciata vincere per galanteria! Cuore nobile!